Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video e come vedete già dal titolo, oggi parliamo di Bridgerton 3, la prima parte, come sempre ho avuto modo di vedere la prima parte, ovvero questi primi quattro episodi in anteprima grazie a Netflix e adesso, 16 maggio, che in poche parole è il giorno sia dell'uscita di questi primi quattro episodi, ma è anche la fine dell'embargo in qualche modo mi sono detto perché portare anche Bridgerton 3, perché in qualche modo, io più o meno dalle analytics del mio canale YouTube so qual è il tipo di pubblico che mi segue però avevo anche fatto una piccola copertura all'epoca sullo spin-off sulla Regina Carlotta, dunque perché non continuare su questa falsa riga e in fondo cerco sempre di portare un contenuto in anteprima che possa interessare a qualcuno o meno, anche se magari interessa a pochi, perché no? ecco appunto, le mie considerazioni, no spoiler, ma in realtà di spoiler c'è poco perché come tanti altri Netflix mi ha dato la possibilità di vedere solo le prime quattro puntate cioè ovvero solo questa prima parte, dunque le ultime quattro, questa terza stagione è composta da otto episodi, io non ne so niente come sempre prima di andare avanti, 30 secondi un po' di sponsorizzazione per me, come sempre vi ricordo che giù nella box informazioni ci sono i link a tutti i miei social se volete contattarmi, chiedermi delle cose o semplicemente sapere a quello con cui sto lavorando o tutte le mie pubblicazioni online, podcast, insomma trovate tutto giù nella box informazioni ci sono anche gli strumenti per sostenermi, c'è sia la possibilità di abbonarsi al canale YouTube come anche la piattaforma Ko-fi per tutto quello che riguarda le donazioni donazioni libere, si può donare il costo di un caffè appunto come suggerisce il nome, però come dico sempre il miglior strumento per sostenermi è lasciare un like è l'unico modo per combattere un pochino l'algoritmo di YouTube e far vedere, far crescere il canale come i video allora, sono un fan di Bridgerton, devo essere sincero, assolutamente no è uno di quei progetti e dei prodotti che seguo per osmosi, principalmente lo seguo mia moglie che l'ha scoperto un po' così per caso, nel momento in cui poi piano piano è esploso un pochino ovunque, lei già l'aveva adocchiato e poi ho visto che dopo che lei se ne stava vedendo la prima stagione, piano piano il fandom è cresciuto a livelli astronomici dunque mi sono detto che cosa ha questa serie di bello, dunque magari dato che lei poi si è rivista sia la prima che la seconda stagione che poi la regina Carlotta, mi sono detto boh, vediamo un pochino quello che c'è in qualche modo ormai sto seguendo, ripeto per osmosi, tutte queste vicende e lo trovo un progetto perfettamente in linea con le intenzioni con cui la producer, ovvero Shonda Rhimes, fa i suoi show ovvero puntare a quel pubblico non tanto generalista ma è incredibile il modo in cui lei cerca e trova quella chiave di volta per vendere il prodotto, effettivamente la prima stagione è anche abbastanza particolare perché, la sapete no, c'è tutto il concetto di questi due e del loro rapporto un pochino strano anche a livello carnale io un po' rido perché l'ho sempre trovato un po' un espediente talmente stupido però che alla fine ha funzionato ovunque quello che invece mi è sempre piaciuto di Bridgerton in tal senso è il modo in cui viene rappresentato è pieno di costumi, è pieno di colori, è pieno anche di modernità mi piace il fatto che quando... è stata una serie ambientata a metà dell'ottocento mi piace il fatto che quando poi ci sono le feste, i balli, la colonna sonora, cioè la musica che viene suonata dall'orchestra siano delle... siano arrangiamenti strumentali di canzoni di oggi è una chicca, è una piccolezza ma è sicuramente una cosa a mio avviso che funziona parecchio e può anche destare interesse però lasciamo perdere tutto, arriviamo a questa terza stagione a questa prima parte della terza stagione e lo dico spesso però poi lo devo dire quando sarà effettivamente così questo sarà un video breve, perché? perché effettivamente non c'è nulla da dire su Bridgerton 3 ovvero potete più o meno immaginare cosa può succedere alla fine della quarta puntata non sto qui certo a dirvelo, ma è chiaro che queste quattro puntate sono un po' di assestamento succedono delle cose, succedono anche delle cose inedite si segue chiaramente la fonte letteraria lo so perché qui in casa ho tutti i libri e mi è stato confermato che appunto la linea narrativa dei libri viene eseguita però viene aggiunta anche altra roba però giustamente, e questo devo dar ragione queste quattro puntate un po' si concentrano tanto su altre cose e poco su Penelope e Colin i Paulin, no? oppure come dicono nella serie Penelope Penelope, non so se è un adattamento particolare Penelope e Colin sappiamo che adesso questa terza stagione è incentrata sulla loro relazione sul fatto che, come sapete, lei è Lady Whistledown e cose che se avete visto la serie già lo sapete anche perché si scopre alla fine della prima, no? di chi ha l'identità in qualche modo che anche lei dovrà immagino convivere con questa cosa con questa nuova relazione lei che appunto decide di andare via di casa non sopporta più le sorelle non sopporta più la madre e dunque vuole prendere il marito come lo sapete qual è la luce dei suoi occhi è sempre stato Colin è sempre stato Colin e che torna dopo un periodo in Europa più bello, pompato e insomma qui c'è queste quattro puntate sono quattro puntate in cui loro due si riavvicinano ma è anche vero una cosa sono quattro puntate in cui succedono tante altre cose forse un pochino troppe a cui dovete anche considerare l'entrata in scena come anche in società di un'altra Bridgerton ovvero Francesca Francesca Bridgerton e qui giustamente prendo una cosa che ha detto mia moglie e la rivendo qui non è mia, è sua però ci sta giustamente lei è un pochino un po' più appassionata e dice alla fine in qualche modo è vero che questa stagione si concentra tutto su Penelope e Colin però in queste quattro puntate succede poco però in qualche modo è sempre Bridgerton cioè la serie prende il nome di Bridgerton dunque per quanto Penelope non fa parte della famiglia Bridgerton perché è Colin, no? il Bridgerton ci sta che si cerca di approfondire altre piccole parentesi questo perché e questo lo aggiungo io Netflix è consapevole del successo della serie come è successo che è lo scorso anno non mi ricordo che è uscito lo spin-off quello della Regina Carlotta che per qualcuno può anche essere inutile probabilmente però è uno spin-off che ha avuto un botto di successo che comunque sia chiunque era appassionato di Bridgerton se l'ha visto perché era un tappabuchi e come generalmente gestisce Shonda Rhimes e i suoi show è palese che anche allargare alcuni discorsi e si vede in queste quattro stagioni e in queste quattro puntate scusate può servire per poi avere un appiglio e fare l'ennesimo progetto un altro tappabuchi perché voi pensate che dopo che finirà Stranger Things finisce tutto lì non faranno degli spin-off dei progetti paralleli o cose simili insomma Netflix più o meno fa sempre così molte volte sa di avere qualcosa di successo tra le mani altre volte no e quando ce l'ha poi allora da una parte si può criticare però è giusto che uno cerca un po' di battere sul ferro finché è caldo io di Bridgerton dunque lo vedo proprio questa terza stagione come una stagione un pochino diluita almeno in queste quattro puntate perché è chiaro che la quarta puntata è quella più ricca è quella che poi succede con un paio di cose che ti lasciano così e dunque sei costretto ad attendere un mese perché la seconda parte esce a metà giugno il 15 il 16 giugno e vedere gli ultimi quattro episodi che sicuramente saranno quelli dove hanno messo più carne è una strategia sì cioè palesemente hanno diluito questi quattro episodi proprio per allungare il tempo di fruizione diciamo che anche secondo me Netflix si sta accorgendo che è buono quando alcuni prodotti vengono chiacchierati nel tempo guardate per esempio Cobra Kai Cobra Kai l'ultima stagione addirittura l'hanno divisa in tre parti due parti verranno rilasciate nel 2024 e l'ultima parte nel 2025 cioè la cosa bella di quando venivano rilasciate nelle reti generaliste le puntate singole una settimana è perché almeno in quei boh tre mesi quattro mesi cinque mesi settimanalmente l'interesse era sempre vivo per quella serie la paura tra virgolette non è che Netflix ha paura di questo ma la strategia di Netflix è appunto quello di in tal caso far parlare di Cobra Kai per più mesi di quanto poi effettivamente potrebbe essere un argomento caldo e la stessa cosa lo fa anche con Bridgerton dunque quattro puntate che in qualche modo non fanno altro che dire no ora voglio le altre perché adesso succede la vera ciccia non posso dire quello che succede nella quarta stagione però vi posso dire questo è bello il fatto che sia concentrato molto su Penelope su lei che vuole emergere che vuole farsi finalmente vedere che prende delle decisioni decisioni che poi porteranno specialmente verso poi al quarto episodio e porteranno delle delle svolte interessanti non posso chiaramente dire le cose uno poi se lo può immaginare ma è chiaro anche che e questo è interessante arrivano delle cose importanti nella quarta puntata però ci sono altre quattro puntate da riempire dunque probabilmente anche lì entrerà in gioco il fatto della sua doppia vita deve anche recuperare alcune amicizie che ha perso nelle ultime puntate come ben sapete insomma piccolo video dieci minuti cerco di poco più di dieci minuti mi fermo qua anche perché è difficile poi tirare le somme infatti dovrei anche scrivere un articolo ma che cosa si può scrivere di quattro puntate che danno solo una grande infarinatura e sicuramente promettono scintille ma tra un mese dunque ci vediamo tra un mese quindi niente ragazzi nel momento in cui questo video uscirà ci sarà anche la serie le prime quattro puntate già disponibili su netflix andatela a vedere noi ci vediamo in un prossimo video come sempre lasciate un like sotto ci sono i commenti se volete se ne parlo assieme giù nella box informazioni tutti i miei social iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti per avere anteprime di film serie tv videogiochi quello che volete e noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video ciao a tutti